Un pre-campionato ad alti ritmi, quello che sta svolgendo il cab solo fra di Francesco Mollica. Sabato, primo test importante contro Ischia per calibrare la squadra e vedere fin dove potrà spingersi. L'inizio è stato un po' duro, adesso ci siamo messi al lavoro in maniera costante, abbiamo fatto sette allenamenti e nessun amichevole, quindi ritengo la partita di sabato letteralmente una partita in cui, la prima partita in cui vedrò la mia squadra sul campo e questo è un test fondamentalmente, non avendo fatto amichevoli, che ci dà anche modo di vedere i nostri limiti, i nostri punti di forza. Io dico che ci arriviamo comunque in una maniera non così negativa. Il 21 ottobre invece inizierà il campionato, un calendario piuttosto difficile, la prima è contro Salerno. Sì sì sì, io credo che noi siamo una squadra che deve dare tanto ritmo, deve giocare a ritmi alti, deve provare a giocare sugli entusiasmi e credo che comunque in casa saremo una squadra davvero temibile per tutti. Il proseguo del campionato poi si vedrà, noi vogliamo arrivare lì più pronti possibili avendo messo dentro tutto quello che ci serve per affrontare una gara vera, una gara dura e abbiamo tempo ancora per lavorare e quindi iniziando da sabato, come vi dicevo prima, per capire davvero i nostri punti deboli, i nostri punti di forza e poi costruire la tela di questa squadra.